Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video di Forza Horizon 5 a grande richiesta oggi andremo a modificare una macchina JDM questo mezzo è stato modificato nell'ultimo video e devo dire che non è niente male e ho anche già sistemato il pezzo dietro sui montanti che usciva un po' di colore verde allora ho ricoperto con altri vinili, maschere e via dicendo questa qui è stata la mia prima vera auto dove ho utilizzato veramente tante cose strisce, linee e via dicendo e devo dire che il risultato non è niente male ma oggi andiamo nel mio garage perché andiamo ad utilizzare una macchina che in tanti mi avete scritto B prendila assolutamente nel frattempo vi mostro com'è cambiato il mio garage perché dall'ultimo video fatto se non sbaglio una settimana fa alcune auto sono state aggiunte adesso ne ho circa 210-211 quindi come Supra ho soltanto questa del 2020 su Barozzi ho questi tre Clio qui ho un paio di Porsche ditemi se in caso qual è la prossima Porsche che vi potrebbe piacere qui ho la 944 Turbo dell'89 GT2 RS Panamera il Peugeot 205 Rally e poi qui nelle Nissan abbiamo la Silvia del 92 la 240SX la Silvia del 94 e la Silvia Spec R del 2000 la Silvia KS Aero del 98 ma se non erro in diversi di voi mi avete scritto B vai e modifica la Silvia del 2000 ed eccoci qua fuori con la nostra mega Silvia devastante del 2000 sentiamo un po' il sound vabbè giusto guida a destra questo mezzo qui raga credo che sia quel quello con la bici sopra esagerato partiamo via con calma alle marce è un po' lente vedete 5000 giri e poi c'è quell'indecisione lì vediamo di metterci un bel motore e si si ci sta raga un botto sta macchina e siamo entrati adesso nel nostro piccolo garage di modifiche perché andiamo a vedere subito la conversione cambio quanti ne abbiamo quanti cavalli abbiamo? 250 cavalli 275 Nm di coppia niente niente male molto bene dopodiché abbiamo un 3200 va bene un 6200 vuoto questo assomiglia tipo una muscle car assolutamente raga dopodiché abbiamo un 2006 questo potrebbe essere interessante o se no un 1600 turbo rally questo questo no raga è turbo rally dovrebbe essere il motore adesso che ho fatto mente locale il 2JZ della Supra 555 555 cavalli ci mettiamo su forse è un po' troppo eccessivo oppure un 264 rotto questo cos'è sta roba? ci mettiamo questo qua perché come sound a me non dispiace sembra abbastanza bello aggressive quindi spero di non aver sbagliato raga adesso invece andiamo nel motore e qua ci mettiamo chiaramente tutti i filtri da gara vediamo un po' quanto saliamo di cavalli qua ci mettiamo le valvole qua ci mettiamo tutto quanto da gara questo aspettate ci mettiamo i pistoni da gara ci mettiamo questo da gara dopodiché e adesso va bene e ora lo scarico perché qui va bene però qua a me dispiace raga qualcuno mi aveva detto B guarda che si può vedere anche il cambio di marmitte ma io non lo vedo raga come si fa? cambiato tutto ho rimesso il motore originale perché il sound che sprigionava la macchina non mi piaceva più di tanto quindi adesso risentite il sound originale adesso abbiamo 461 cavalli con tutte le altre modifiche e ora raga lo scarico originale questo è elaborato senti quanto scoppia sportivo e dopodiché da gara esagerato per fortuna raga che sono tornato indietro sui miei passi perché anche quando ho messo lo scarico sull'altro motore eccetera non mi piaceva nella maniera più assoluta quindi adesso freni da gara guardate come cambiano mamma mia che spettacolo molle e qui ci mettiamo queste qui da sbandata assolutamente barre antirollio tutte quante queste da gara perfetto poi ci mettiamo una gabbia e la gabbiozza ci sta un botto 54 kg va bene ma poi riduzione di peso 192 nella sezione trazione frizione andiamo a metterci questa da gara cambio io qui raga il cambio perdonatemi ma non saprei che cambio mettere non sono così tanto informato su quale cambio mettere su questa macchina qui trasmissione mettiamoci questa da gara differenziale rally derapata fuoristrada da gara sportivo io direi di metterci un bel derapata raga dopodiché nelle gomme abbiamo innanzitutto vediamo che cerchi possiamo metterci 20 però come estetica ci stanno un botto adesso qui raga qualcuno mi ucciderà sicuramente ci mettiamo dei 20 davanti e dei 20 dietro raga bastodontici forse i 20 sono un po' eccessivi su questa macchina magari sarebbe meglio mettere dei 18 qua le gomme le possiamo fare un pochettino più larghe ma si dai andiamo pure con i super pneumatici slick abominevoli larghezza pneumatico anteriore fatemi vedere mamma mia esagerato lo voglio e il posteriore che rientravano tantissimo adesso ci siamo per i cerchi li vediamo dopo aver messo la verniciatura perché qui ce ne sono a milioni quindi dopodiché andiamo aerodinamica e aspetto quanta roba c'è qui ognuno di noi avrà le proprie preferenze ma a me piace veramente tanto questo paraurti anteriore elaborato che fa il muso veramente super aggressivo vi ricordo che l'originale è così questo top secret anche non mi dispiace abbastanza aggressivo la west non mi dice più di tanto niente questa qui mi sembra un po' troppo da skyline come muso l'anismo non lo so mentre questo qui forza rayson 5 tanta roba perdiamo un botto di velocità che tanto a noi non ci interessa perché questa qui è una macchina da drifting però sempre con quel gancio traino davanti così ragazzi sembra una mucca con il coso sul naso cioè anche no quindi io mi tengo questa ditemi se ho fatto bene o no mentre per l'alettone posteriore l'originale è questo questo qui è il west questo è quello della nismo questo qua nissan senza niente forza horizon 5 in carbonio devastante e poi questo qui esagerato è deciso per l'alettone posteriore ci mettiamo questa sbadilata devastante anche se non mi fa tanto impazzire per come è stato attaccato con i due supporti centrali mi sarebbe piaciuto magari l'alettone si largo così ma con i supporti messi proprio ai bordi abbiamo addirittura questo attenzione originale questo qui che prende un po' di più questo ancora di più il west in questa maniera abbiamo il trial e nismo senza nemmeno pensarci un millesimo di secondo nismo tutta la vita e ci prendiamo un cannone devastante al posteriore dopodiché abbiamo minigonne nismo ma si potrebbero starci abbiamo queste qua un po' più cicciotte la west no la west non mi dice nulla è troppo 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 la trial è veramente tanto tanto bassa e questa qui andiamo con il nismo tutta la vita cofano west la macchina cambia in questa maniera il peso da 1240 arriva a 1085 e i cavalli da 250 salgono a 582 e ora ci divertiamo con il colore io so già di quale colore volerla fare ovvero rossa raga ci manca ancora una macchina così e secondo me la silvia rossa so che andava tantissimo bianca o gialla anche non è niente male che bella così un bel violaceo così raga di tutti i colori del mondo perché questa qui è una macchina raga esagerata perché la silvia così rossa opaca verde così va bene o così secondo me una macchina così raga ci potrebbe stare tanta tanta roba le pinze le teniamo rosse raga un bel rosso così acceso ho verniciato prima i cerchi per il semplice fatto che anche se cambiamo poi il cerchio il colore rimane è una figata questa qui di forza horizon io ci metterei già questi a 6 razze meno 8 chili e spaccano spaccano e ripeto ancora spaccano a me piacciono anche questi qua i folks racing dove diminuiamo di 24 chili tutto quanto andiamo a 1061 chili fermi tutti ragazzi perché siamo fuori ma mi è appena arrivata una chiamata dal meccanico dove la mia ferrari gto è pronta quindi dopo l'andiamo anche a vedere cosa ne dite cosa ne dite ragazzi perché scoppietta in una maniera impressionante non male chiaramente non abbiamo milioni di cavalli non ho messo l'altro motore disumano così potete vedere magari anche che i 300 li facciamo ugualmente anche questa macchina è impressionante ora in città si riesce a fare qualcosa di più sensato forse le gomme non mi aiutano magari per driftare derappare e chi più ne metta magari mettendo il motore della Supra il 2JZ lì devastante si riesce a controllare meglio la macchina con più cavalli più driftate più tutto fatemi sapere io l'ho fatta così penso che abbiate capito un po' com'è la macchina come si comporta spero vi piaccia come l'ho fatta io raga divertente è divertente il sound anche non mi dispiace ah accelerato troppo peccato allora visto che adesso abbiamo smarciato questa derappata possiamo andare a vedere anche guardate che metti il retro la Ferrari ed ecco a voi la Ferrari devastante che è stata venduta all'asta l'ultima dicevano per 40 milioni di dollari 50 milioni di crediti viene vediamo l'interno di questa macchina da 50 milioni di crediti è impressionante ragazzi poi con la seconda muore un po' però ragazzi che gioiellino che abbiamo abbiamo più che altro due gioiellini entrambi rossi in questo video uno più bello dell'altro quale scegliereste voi? si in seconda ragazzi proprio non ce la fa la macchina solo che modificarla senti come tira ci sta ci sta dai 200 all'ora è del 62 ma no non tiene bella 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 anche questa qua quindi senza dilungarmi ulteriormente io vi saluto vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate della Silvia cosa ne pensate di questo ferrarino mega galattico ripeto 50 milioni di crediti io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.